Un lavoro che vi sta impegnando ad alti livelli, spieghiamo cosa state facendo. Molto, opere di bonifica, soprattutto c'è troppo disagio da tanti anni che non si pulisce e siamo gli operai forestali, cerchiamo di fare il nostro meglio, però ci fanno passare la buona volontà a lavorare, soprattutto per la paga, perché non abbiamo riscontrato quello che dicevano. Siamo disagiati, come vede con gli stivali, ma non è acqua pulita, lo dobbiamo fare, ma siamo in mezzo alla spazzatura, perché qua c'è un cumulo di spazzatura, la puzza, che non si resiste, non riusciamo neanche a mangiare e zanzare in quantità. Da lunedì cambia l'orario, mettono l'orario invernale, non possiamo stare qua fino alle 4, assolutissimamente. Bisogna capire che il lavoro che stiamo svolgendo noi è un lavoro di bonifica per salvaguardare tutti e per tutti. Qua abbiamo trovato un po' di tutto, immondizia, macchine, tutto. Ci rendiamo utili perché dobbiamo portare avanti un discorso. Le paghe sono quelle che sono e dobbiamo cercare anche di portare avanti il discorso delle paghe, perché sono delle paghe che ritardano al pagamento, perché giustamente ognuno ha le sue esigenze in famiglia. Siamo qua per collaborare e non ci tiriamo nessuno indietro. Devono smettere a livello nazionale di dire che ci sono troppi forestali. La verità invece è che questo è un sito, come tanti ce ne sono in Sicilia, che merita questo impegno. Merita l'impegno di gente di valore che nasce dalla terra, che sa che cosa sono i sacrifici e che si mette a servizio della propria comunità. Non dobbiamo aspettare il morto per intervenire sugli alveoli dei fiumi. Loro lo stanno facendo, lo stanno facendo bene e quindi oggi sono voluto venire qui per premiarli. Non è un riconoscimento solo a questa gente, ma è un desiderio, una prospettiva perché i nostri figli possano rimanere in Sicilia attraverso la produttività del bofco. La Sicilia non è solo il mare e il bel sole. La Sicilia è tutte le aree interne e tutte le aree boschive che vanno valorizzate attraverso l'impegno di questi operai. Oggi si rende merito al lavoro importante svolto qui al canale di scolo della Dica, ma gli operai continuano a chiedere maggiore attenzione da parte dell'amministrazione regionale. Certamente, come si vede praticamente i lavoratori forestali, dopo tanti anni di precariato, parliamo di 30, 40, anche più anni, hanno acquisito una professionalità in mane che può essere messa a disposizione della collettività e principalmente della sicurezza del territorio. Ne abbiamo già esempio, già la ripulitura dell'Alveo che collega all'invaso Poma, dove era abbandonato almeno da 50 anni. I lavoratori forestali, quando utilizzati in maniera produttiva, possono rendere la regione siciliana un giardino a cielo aperto.